Dopo il doppio mandato a guida Marco Troiano, Brugherio ha da pochi giorni un nuovo sindaco. Si tratta di Roberto Assi, consigliere comunale dal 2009, prima in maggioranza e poi all'opposizione, e sostenuto da un centrodestra presentatosi stavolta compatto con la lista Brugherio Popolare Europea, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. L'esito delle urne è stato trionfale per Assi, vincitore addirittura al primo turno con il 58,66%, seguito a distanza da Damiano Chirico con poco più del 32%, Giovanna Borsotti con il 6,82% e Olga Sudano con il 2,23%. Mercoledì sera in sala consigliare è stato organizzato anche un momento solenne per il passaggio di consegne definitivo tra Troiano e Assi, che porta così il centrodestra nuovamente alla guida di Brugherio dopo più di dieci anni. La città ha voluto non premiarci, avete sentito che ho parlato di servizio, non è un premio, ha voluto affidarci e chiederci questo servizio. Credo l'abbia fatto sulla scorta di dieci anni di opposizione, di dieci anni comunque di presenza costante sul territorio. Abbiamo avuto dei numeri importanti, l'aria avevamo capito che era positiva, non ci aspettavamo francamente numeri di questo tipo. Cosa faremo subito? Sicuramente bisogna ricucire un tessuto che è stato lacerato dalla pandemia innanzitutto e poi secondo noi da alcune scelte non proprio condivisibili che sono state fatte negli anni. Quindi vogliamo ricucire il rapporto con il mondo dell'industria, con il mondo del commercio e sicuramente faremo alcune azioni importanti. Abbiamo già intenzione di parlare con la Polizia Locale per intervenire sul tema dei T-RED e sul tema della viabilità del centro.